Una sola domanda ha importanza. Giurate sulla vostra vita che ciò che dite è vero? Mio padre mi aveva predetto una vita benedetta dalla fortuna. Mi sono sposata. Sono stata una buona moglie. E poi sono stata giudicata e umiliata dalla mia gente. Lo dichiaro davanti a voi tutti. Le mie parole sono vere. L'accusa più infamante è stata mossa contro di voi. Jacques Legris è entrato in casa nostra. Mi ha aggredita. L'accusa è falsa. Dico la verità. La verità non ha importanza. Esiste solo il potere degli uomini. Andrebbe sistemata con discrezione. Sono innocente! Chiedo un duello all'ultimo sangue. Se perdete, vostra moglie subirà tragiche conseguenze. Uno di noi ha mentito. Che sia Dio a decidere. Tu non mi credi. Sto rischiando la mia vita per te. Stai rischiando la mia vita per salvare il tuo orgoglio. La pena per la falsa testimonianza è che siate bruciata viva. Non rimarrò in silenzio. Non rimarrò in silenzio. Non lo ruo cioè non farai studios